bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ancora novità su quello che riguarda il nostro bene amato fortnite come so ragazzi molti di voi che non hanno la playstation 4 o l'xbox one o il pc mi dicono xyuder porca miseria ma fortnite oltre per queste console e per i dispositivi ios ed in futuro ovviamente per android arriverà anche su nintendo switch allora ragazzi abbiamo parlato qualche una settimana fa più o meno forse leggermente di più che sembrava ci fossero delle voci di corridoio che appunto trattassero l'argomento fortnite cioè epic games e nintendo come sapete ragazzi nintendo è il leader comunque il capostipite della rivoluzione dei videogiochi del 1980 e passa quindi vanta di poter un pochettino dettare relative regole su molti videogiochi è però indiscutibile dire che fortnite come sappiamo è diventato oramai un grande fenomeno di massa e che quindi ha preso veramente una grandissima fetta di mercato per quello che riguarda gli utenti per quello che riguarda i videogiocatori per questo ho cercato un pochettino in giro perché ho scelto cerco un pochettino in giro porca miseria io cerco anche se non prenderò mai la nintendo switch so che ci sono molti di voi che ce l'hanno so che ci sono dei ragazzi che bramano e li posso capire di giocare a fortnite voglio farvi vedere una cosa voglio farvi vedere una cosa ragazzi la faccio vedere sbronche di ciclo ma che cacchio è quell'immagine che mi hai mandato chiudere ragazzi che cos'è questa immagine questa dovrebbe essere una fotografia scattata con un cellulare da parte di qualcuno che lavora dietro le quinte delle tre che cosa no delle tre delle tre sono le due e mezzo sono le tre è un evento che fanno il più grande evento videoludico ragazzi che fanno se non ricordo male a los angeles e quest'anno se si compierà dal 12 al 15 giugno parteciperà ovviamente epic games questa fotografia ragazzi ci fa vedere delle cose che vista così sembra cagata ma ragazzi qua ci sono dei videogiochi che sembrerebbero presenti nello stand di nintendo stiamo parlando di fifa 19 stiamo parlando di killer queen black stiamo parlando di starlink di overcook 2 paladins e tra questi titoli spunta la bello in alto il nome di fortnite allora è qua di cicciolo che caspita cosa che cosa vuol dire sembrerebbe che nintendo voglia procedere con l'inserimento nella sua ultima console o forse nella successiva non lo so raga non lo so a fortnite ma vi voglio far vedere di più ragazzi perché questa è vero che è un'immagine scattata col cellulare tutta sfocata non si capisce niente voglio farvi vedere sbronk questo non parli cinese scusa non capisci che cosa c'è scritto porca miseria questa ragazza è una cosa molto più seria dell'immagine che ti ho fatto vedere prima te la faccio vedere tradotta te la faccio vedere tradotta questa ragazzi è un comunicato ufficiale che passa dall'autority dei videogame cosa vuol dire questa ragazzi è una proposta di come si dice una proposta di inserimento nella di una di un videogioco in una piattaforma in questo caso stiamo vedendo ragazzi che sotto la voce nome del gioco c'è scritto fortnite nintendo switch quello che avete visto prima ragazzi cioè questa io l'ho presa da un sito giapponese ragazzi giappone dall'autority giapponese tradotta in italiano viene fuori ragazzi che qua c'è sembrerebbe ci sia una richiesta ufficiale per far questo io credo non è che ho capito molto però ve lo faccio vedere io credo che questa sia la richiesta ufficiale di epic games all'autority giapponese per all'autority leader della est del mondo dove sono quelli per far andare fortnite su nintendo switch come vedete agenzia di classificazione comitato di classificazione del contenuto di gioco è un po come il nostro peggy in poche parole non so se voi guardate mai peggy 8, peggy 16, peggy 19 sono le classi di età che devono essere soddisfatte per utilizzare un videogioco cioè tu un ragazzo di 12 anni in teoria non potresti giocare a gta 5 sono obbligati loro a metterlo poi ci sono i bambini di 4 anni che piuttosto che ciucciare il biberon sono lì a sparare alla polizia però sono dettagli come vedete nome del gioco fortnite nintendo switch nome originale fortnite con la capa quindi cavaliere vorrebbe dire e qua c'è scritto data di classificazione 1 giugno 2018 quindi ragazzi è una notizia freschissima è di ieri fa vedere ragazzi che la classificazione di questo gioco è per i bambini di 12 anni perché ci può stare non c'è spargimento di sangue non c'è violenza esplicita diciamolo così e non so cosa vuol dire quella chitarra lì sotto penso che sia tradotto semplicemente male genere azione questo ragazzi è molto importante perché vorrebbe veramente dire che c'è uno spiraglio per fortnite su nintendo switch io ragazzi più di così per il momento non so spero di avervi un pochettino dato una speranza a voi che avete nintendo switch o spero comunque di avervi fatto divertire un pochettino e di avervi tolto una curiosità per tutti gli altri videogiocatori che utilizzano console ios o pc io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando rimanete sempre aggiornati su questo canale per tutto quello che riguarda fortnite e fortnite per android e noi ci vediamo domani mattina in live ciao ciao